Dovete sapere che in Germania c'è una grande tradizione automobilistica. Qui abbiamo trovato il signor Stefan Rürich che lavora per l'associazione delle industrie automobilistiche tedesche che presentano uno stand dove c'è un agreement tra i più di 100 musei che ci sono disseminati in Germania dove presentano le diverse vetture. Buongiorno a tutti. Io presento al pubblico del stand qui e l'accordo tra l'associazione e gli altri musei presenti all'inizio. Penso che questa iniziativa è molto interessante. In Germania abbiamo più di 200 musei automobilistiche che sono, credo, il mondo champion per musei. Ma la ragazza è perché in Germania abbiamo più di 500 brand di cari che non existono più. E questi 200 musei stanno cercando di cover e presentare questo vecchio heritaggio che abbiamo in Germania. Questo è la prima volta che abbiamo fatto un tipo di accordo? Sì. In realtà, di questi 200 musei, la maggior parte di loro non sono molto bambi. E noi stiamo cercando di riconoscere e dare loro il supporto per le loro attività. Questa quantità di musei è solo per cari o anche per motorizzare e altri tipi di motorizzare come aeroporti o per le loro attività? Sì, questi 210 musei, lo chiamiamo per le loro attività storiche. Quindi, questi sono tutti i tipi di motorizzare che hai già parlato prima, per i motorizzare, per i motorizzare, per le loro attività, per le loro attività, per le loro attività, per le loro attività, per le loro attività e per le loro attività. Ma abbiamo fatto anche una notizia elettrica, che è speciale per le loro attività elettrici, ma anche per le loro attività ecologiche. E so anche che la Germania ha una grande tradizione di ecologia. Sì, sì, è vero. E abbiamo anche un'idea qui, di presentare alternativi treni, che sono già già 100 anni o più. Per esempio, la idea di hybrid era già presentata da Porsche in 1901, dove ha presentato un'auto con un'auto di mercedese, che era un'auto più stationale, e che era per le loro attività elettrici, quindi era già un'auto di reale hybrid. Allora, possiamo mantenere in contattazione, e credo che vorrei parlare con te di nuovo per sapere, per sapere di queste elettrici in musei. È molto interessante per noi vedere in Italia, cosa sono questi musei in Germania. Sì, molto benvenuti, ovviamente. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.